allenatori scelgo voi amici in ascolto qui parla il vostro lopendo italia faccio questo video perché ho un piccolo annuncio da fare il sottoscritto insieme a ipno di jumbo gamers stiamo organizzando un torneo online di pokemon siccome sarà la prima edizione stiamo sperimentando e dobbiamo sapere se il progetto riscuota interesse alla fine del video vi dirò come iscrivervi ma prima vi spiego innanzitutto come funziona dal momento in cui questo video verrà caricato saranno aperte le iscrizioni si giocherà con la formula dell'eliminazione diretta quindi supponiamo che 20 persone si iscrivano noi prenderemo in considerazione soltanto i primi 16 ma nel caso si raggiungano almeno 32 iscrizioni potremmo allargare ancora di più il numero dei giocatori così via questo affinché la formula del torneo non ne risenta e quindi si possa giocare in piena tranquillità una volta chiuse le iscrizioni fra una settimana quindi alle ore 21 di martedì 21 gennaio daremo un'altra settimana di tempo per permettere ai giocatori di costruirsi al meglio il proprio team avrete a disposizione tutti i pokemon di tutte e sei le generazioni comprese le mega evoluzioni approfittate di questo periodo di tempo se cambiate idea e volete dis iscrivervi così potremmo cedere eventualmente il vostro posto a qualcuno che è rimasto in lista di appesa e che vorrebbe comunque partecipare quello che esigiamo da parte vostra è la correttezza e la responsabilità di rispettare l'impegno e di partecipare una volta iscritti al torneo bene messe in chiaro queste formalità passiamo all'aspetto pratico il download di pokemon online è in descrizione è completamente gratuito e potrete scaricarlo già da ora per prendere confidenza col programma e fare i vostri primi incontri di allenamento una volta che avremo tutti i nominativi delle iscrizioni sorteggeremo i tabelloni anche con orarie date degli incontri nel caso le date non vi vadano bene potrete cambiarle previo avvertimento e consenso del vostro avversario e nel sottoscritto le squadre saranno composte da sei pokemon ciascuno potrete modificarle liberamente insieme agli oggetti che vi portate dietro nell'arco del torneo questo affinché sia garantita l'imprevedibilità delle squadre e sia premiato l'allenatore che sa meglio adattarsi come vedete al momento sembra tutto semplice e chiaro per partecipare basterà mandare una mail a iscrizioni pokemon chiocciola io.it in essa dovrete inserire il vostro nome il vostro nickname su pokemon online ed eventualmente se ce l'avete anche il nickname youtube così da riconoscervi meglio per ora concluderei qui il video vedremo quante adesioni raccoglieremo e nel caso di faremo sapere se il torneo si farà o meno seguiranno aggiornamenti quindi rimanete sintonizzati per avere le ultime notizie un saluto da parte del vostro lopendo italia e vi aspetto numerosi ciao